Settimo giorno di guerra in Ucraina, attivata fa in una cabina di regia, le farmacie comunali lanciano una raccolta farmaci da inviare nel paese sotto a tab. Profughi, l'assessore Aguzzi puntualizza, non ci sono richiesti ufficiali di accoglienza nelle marche, è pronto il Covid hotel di Porto Sant'Elpidio, nessuna richiesta nemmeno per cibo e altri materiali, intanto la Croce Rossa di Fano è al lavoro per il ricongiungimento. Sanzioni alla Russia e ricadute sull'economia, la regione analizza le strategie da mettere in campo tra sostegni economici e sguardo ai nuovi mercati. Evade il fisco per quasi 2 milioni di euro, arrestato a Senigallia un imprenditore cinese, sequestrati immobili, macchinari, auto e conti correnti. Virginia è tornata da campionista, ha festeggiato il tricolore la sedicenne fanese che ha vinto il titolo italiano negli 800 metri under 18, prossimo obiettivo gli europei con la maglia della nazionale. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Ancora giornate segnate dalla guerra in Ucraina per mano di Putin. I comuni, le farmacie e le varie associazioni si stanno adoperando per raccogliere fondi e cercare alloggi. A Fano è stato costituito un tavolo permanente per mettere in campo azioni concrete. Il sindaco Massimo Seri ha lanciato un appello alla cittadinanza per chi ha detto serve il sostegno di tutti. Mai come oggi servono l'aiuto e il sostegno di tutti, Fano risponde presente e tende la mano al popolo ucraino che ha bisogno di noi. Sono le parole del sindaco Massimo Seri che questa mattina ha partecipato anche ad una riunione convocata dalla prefettura sulle azioni da intraprendere per veicolare gli aiuti. Intanto da oggi l'ufficio di promozione sociale del comune potrà fornire le prime informazioni a tutti coloro che vorranno sostenere gli sfollati, svolgendo il ruolo di cerniera affinché vengano diffuse notizie chiare e puntuali. Oltre ovviamente a fare tutte quelle iniziative di condanna di questa violenza inspiegabile, ingiustificabile nei momenti in cui stiamo vivendo, ci stiamo anche adoperando come giusto che sia perché in questi momenti bisogna essere solidali e vicini a chi soffre e chi vive la guerra che va condannata. Proprio ieri abbiamo costituito una cabina di regia dove ci sono tutti i soggetti che nelle varie formule possono essere operativi. Abbiamo affrontato alcune questioni a cominciare adesso dalle prime azioni che sono quelle del ricongimento. Qui abbiamo una bella comunità di persone che vengono dall'Ucraina e che lavorano qua. Quindi alcuni stanno venendo, alcuni nipoti, figli. Abbiamo affrontato la questione della raccolta degli aiuti per quello che riguarda medicinali. Ad oggi ci fermiamo su quello perché per quello che riguarda gli alimenti, gli indumenti aspettiamo indicazioni perché è una cosa importante, dobbiamo evitare che ci siano tante iniziative che poi si disperdono e magari non si raccolgono neanche le cose che servono. Per gli aiuti economici, ha ricordato Seri, ci sono i canali nazionali come quelli della Caritas, della Croce Rossa e dell'Unicef, mediante versamenti sui conti correnti dedicati o attraverso il numero solidale 45525. Mentre per i ricongiungimenti con i familiari che si trovano nel nostro territorio ci sono alcuni passi precisi da seguire tramite la Croce Rossa e il commissariato di Fano. Non dimentichiamo che l'Italia nell'organizzazione dovrebbe accogliere il 13% dei profughi della guerra di Ucraina. Si tiene conto che ci farà una previsione di alcuni milioni di profughi, quindi fate voi il calcolo, anche Fano dovrà fare la sua parte. È in contatto anche con Don Vladimir? Esatto, perché qui c'è come dicevo una comunità presente nella nostra città. Don Vladimir è anche referente della Caritas Ucraina in Italia, quindi anche attraverso loro noi faremo avere del materiale, però cerchiamo sempre di farlo in base alle richieste e alle esigenze vere, per non disperdere energie, per non portare cose che poi non vengono utilizzate. E durante la riunione in prefettura accennata nel servizio è stata effettuata una ricognizione delle disponibilità per l'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Inoltre sono state valutate le possibili misure di intervento per far fronte all'emergenza umanitaria in corso. Nell'incontro, convocato dal prefetto Tommaso Ricciardi, i rappresentanti dei comuni hanno manifestato la disponibilità a riperire alloggi, oltre a quelli individuati dalla prefettura pari a circa 80 unità. È stata evidenziata poi la necessità che i cittadini ucraini, che sono già ospitati da parenti o conoscenti, siano segnalati tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza, anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari collegati all'emergenza da Covid-19. Un importante aiuto arriva anche dalle farmacie comunali gestite da Aset SPA, che ha lanciato una raccolta di prodotti farmaceutici da inviare sul posto. Da giovedì 3 a martedì 8 marzo, per ogni prodotto di primo soccorso che i clienti decideranno di donare, la farmacia comunale ne aggiungerà uno identico, raddoppiando così la donazione. Al centro della campagna di solidarietà ci sarà l'acquisto di prodotti specifici di automedicazione come garze, bende, cerotti, tachiprine, sciroppo per la tosse e integratori, cioè tutti quei beni ritenuti urgenti dalla popolazione ucraina per fronteggiare l'emergenza. E a proposito di farmaci, oggi la presidente della Croce Rossa di Fano, Daniela Camera Canna, ha precisato che il comitato locale non raccoglie medicinali ma è attivo sul fronte dei ricongiungimenti familiari. I volontari stanno lavorando senza sosta. Su tutto il territorio nazionale la Croce Rossa Ucraina si è attivata fin da subito per le operazioni di assistenza umanitaria, tra cui attività di primo soccorso, distribuzione di beni primari come cibo, acqua, coperte, supporto socio-sanitario e psicologico, nonché servizi inerente alle riunificazioni delle famiglie che sono state separate dal conflitto. I bisogni sono molteplici e aumenteranno sempre di più con il passare dei giorni. Per questo motivo la Croce Rossa italiana ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile e per la gestione degli sfollati. È in partenza il primo convoglio della CRI con derrate alimentari, medicinali e coperte per raggiungere direttamente l'Ucraina e portare gli aiuti necessari. A Fano il Comitato della Croce Rossa è attivo ma non per la raccolta di farmaci come comunicato ieri dal Comune, bensì per altre esigenze dei rifugiati. Per il momento non lanciamo nessuna campagna raccolta né di farmaci, né di coperte, né di vestiario, né di alimenti. Per il momento è tutto fermo perché c'è una gran confusione e questa roba andrebbe sprecata. eventualmente se qualcuno già ce l'ha e li vuole portare pur che siano farmaci che abbiano minimo una scadenza di otto mesi o materiale che non è sterile. Al momento ha proseguito la Presidente Daniela Camera Canna. Non abbiamo la possibilità di portarli a destinazione. Intanto è partita una colonna dal Centro Nazionale di Protezione Civile di Avezzano e dobbiamo attendere da loro ulteriori comunicazioni sui passaggi da eseguire per le consegne. Allora in questo momento siamo in contatto con le famiglie che hanno ospitato i profughi. Un pullman è arrivato anche questa notte quindi ci hanno dato comunicazione e abbiamo dato le varie indicazioni. Mettiamo in atto quello che è uno dei compiti della Croce Rossa, i ricongiungimenti familiari in tempo di guerra. Quindi chi ha bisogno di dare che è residente a Fano e che vuole mettersi in contatto o vuole ricongiungersi con familiari che sono rimasti in Ucraina deve mandare una mail a fano-cri.it mettendo nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona che è residente a Fano. In più il nome, cognome, indirizzo e residenza della persona e grado di parentela della persona che si deve ricongiungere. Tenete presente che il nostro presidente nazionale è anche il presidente della Croce Rossa internazionale. Quindi è in stretto contatto con la Croce Rossa ucraina e in tempo di guerra la Croce Rossa ha sempre agito per i ricongiungimenti familiari. L'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi domani incontrerà le prefetture delle Marche. Oggi intanto ha lanciato un monito ai cittadini che stanno organizzando le raccolte di cibo e materiali e ha annunciato la messa a disposizione del Covid Hotel qualora fosse necessario accogliere i profughi. Punto uno. Non ci sono profughi in arrivo verso la regione Marche. Ad oggi. Chi sta rientrando in Italia, sono circa 2000 persone, attraverso il Veneto e attraverso il Friuli Venezia Giulia, lo fa con mezzi propri, sapendo già dove dover arrivare. Cioè magari hanno già qui parenti, famiglie, persone che conoscono e vengono già di loro iniziativa. Lo scrupolo che in quelle realtà hanno è di verificare se sono no vaccinati. Se mai nelle Marche dovessero arrivare tramite corridoi umanitari o altri tipi di iniziative, profughi, noi ovviamente, al pari di tutta la televisione, faremo quanto è dovuto per poter alleviare le sofferenze di queste persone ed accoglierle al meglio. Conseguentemente noi siamo predisposti all'accoglienza e pronti, qualora ci siano iniziative, anche attraverso l'utilizzo potenziale, non è detto che sarà così, di un Covid hotel che noi oggi abbiamo a disposizione. 20 stanze per 40 posti, perché su stanze doppie due solo sono occupate attualmente. È contrattalizzato fino a fine marzo, quindi ancora è a nostra disposizione, potrebbe essere anche per le settimane successive, però ripeto, ad oggi non c'è questo tipo di richiesta, magari forse non ci sarà neanche. Per quel che riguarda, voglio fare un richiamo a questo, tutte queste iniziative di singole associazioni, singoli cittadini, del tutto meritevoli, cercano cibo, indumenti, altri tipi di... oggi non c'è, per quel che riguarda le marche, ma è un po' in tutta Italia, una richiesta di questo genere. A meno che queste associazioni o anche questi privati non abbiano un rapporto diretto, può succedere a volte con un'associazione di quei territori o con famiglie di quei territori dove loro sanno già dove poter inviare questi materiali, altrimenti spesso che succede che raccolgono, poi chiamano i sindaci dicendo noi abbiamo raccolto queste cose, dove le possiamo inviare, i sindaci chiamano la protezione civile regionale, la protezione civile regionale dice mettetelo in un magazzino perché in questo momento non c'è un canale, diciamo così, di invio di alcun materiale verso quelle zone, magari ci sarà domani, ma ad oggi ancora è così. E nel 2020 le marche hanno esportato in Russia merci per un valore di oltre 274 milioni di euro per far fronte alle sanzioni conseguenti alla guerra che hanno un forte impatto per la sull'economia marchigiana, la regione e la camera di commercio hanno convocato un tavolo con imprenditori e associazioni per valutare tutte le strategie. Abbiamo parlato dei riflessi di questa guerra sulla nostra economia regionale che purtroppo rischiano di essere drammatici, alcune imprese hanno una forte propensione sui mercati russi e sul mercato ucraino anche e in generale sull'area asiatica e questo rischia di comportare un'incertezza molto pesante per molti produttori, soprattutto nel mondo del fashion, della moda, delle scarpe e oggi abbiamo incontrato insieme al Presidente Acquaroli, insieme al Presidente Sabatini, una importante delegazione, 50 imprenditori con le associazioni relative per decidere insieme delle strategie. Abbiamo già in mente alcune idee che percorreremo rapidamente senza perdere tempo e cercando di creare se è possibile un sollievo a questa eventuale perdita di fatturato per le nostre imprese. Gli imprenditori ci hanno chiesto un sostegno economico sulla legge 13, potremmo metterci in campo insieme alla Regione per mettere dei fondi di sostegno alle imprese proprio per gli ordini che loro hanno. Ci hanno chiesto anche delle compensazioni importanti sulle fatturazioni già emesse per la liquidità delle stesse imprese come anche la cassa integrazione in deroga. Certo stiamo anche analizzando con il Presidente Acquaroli, con il Vicepresidente Carloni nuovi scenari, nuovi mercati dove poter magari in questo momento di difficoltà, perché pensiamo che l'evento bellico non venga a terminare subito, magari scoprire nuovi mercati. Ricordiamo che il settore Russia sul distretto Fermano Maceratese della calzatura incide quasi l'80%, perciò a livello nazionale i numeri più importanti sono quelli marchigiani che vanno a intaccare su questo evento bellico. E' iniziata questa mattina alle 7.30 al Santuario della Santa Casa di Loreto l'intensa preghiera per invocare il dono della pace in Ucraina e nel mondo intero. Per tutto il giorno fino alle 22 nella Cappella dei Santi Pellegrini sarà esposto Santissimo Sacramento per la preghiera silenziosa. Ed ora la cronaca. Un imprenditore cinese che ha evaso il fisco è finito agli arresti domiciliari. L'indagine è stata portata a termine dalle fiamme gialle di Senigallia. Filippo Pucci. Nelle scorse settimane i finanzieri della tenenza di Senigallia hanno arrestato un imprenditore di origine cinese per più reati di natura fiscale. Le attività costituiscono l'ultima tranche dell'operazione Domino che ha già permesso alle fiamme gialle di individuare una vasta e complessa frode ai danni dell'erario e degli enti previdenziali. Il settore nel mirino è quello del confezionamento di prodotti tessili all'interno del distretto di Senigallia o Stramondolfo. Erano già state denunciate 68 persone per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. L'attività fraudolenta era commessa con la costituzione di 57 imprese gestite secondo il sistema apri e chiudi, create appositamente per omettere il pagamento delle imposte. Da ultimo i finanzieri hanno individuato un imprenditore, poi finito in manette, che aveva gestito cinque diverse ditte in cinque anni intestate ad altrettanti prestanome. Lo stratagemma era lo stesso con la chiusura delle aziende, una all'anno aveva omesso i versamenti dei debiti fiscali accumulando una somma dovuta pari a oltre 1,7 milioni di euro. I militari hanno eseguito numerose perquisizioni durante gli orari notturni mentre venivano confezionati i capi d'abbigliamento e hanno sequestrato auto, furgoni, attrezzature e la documentazione extra contabile. Nel corso dell'intervento sono stati scoperti anche sette lavoratori in nero. Un reato che ha comportato una maxisanzione che può arrivare fino a un massimo di 75 mila e 600 euro. Dopo queste operazioni l'imprenditore ha costituito una nuova ditta intestata ad un prestanome, trasferendo la sede nella provincia di Pesare Urbino, operando ancora una volta con gli stessi dipendenti, gli stessi clienti e i medesimi fornitori. In base a quanto emerso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari ed esteso ai 5 prestanome il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei loro beni. I militari hanno poi sequestrato le disponibilità sui conti correnti dell'indagato, crediti presso terzi, un appartamento a Bologna, oltre a 4 veicoli e a 133 macchinari per cucire. Confesercenti di Pesare Urbino esprime le condoglianze per la scomparsa di Damir Marchetti, titolare per alcuni anni di un'apprezzata pescheria in zona Pantano a Pesare e socio di Assuittici Confesercenti, sindacato all'interno del quale ricopri anche la carica di presidente provinciale. Domani si terrà l'audizione che il Ministero della Cultura farà a Pesare tra le dieci finaliste in corsa per diventare capitale italiana della cultura 2024. La città avrà un'ora di tempo a partire dalle 15.15 per raccontare le iniziative, i progetti e gli interventi racchiusi nella natura della cultura. Il programma è ideato dal Comitato di Pesaro 2024 alla Commissione del MIC. La stessa, presieduta da Silvia Calandrelli, indicherà al Ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea entro il 29 marzo per l'attribuzione del titolo da parte del Consiglio dei Ministri. L'audizione si svolgerà da remoto in modalità videoconferenza e potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Passiamo allo sport perché nei giorni scorsi è stata accolta nel municipio di Fano Virginia Bancolini, fanese doc e campionessa italiana negli 800 metri under 18. Il primo anno di categoria, tiene la Bancolini, la Donati sembra fuori dai giochi. Davanti la Bancolini, prova a entrare all'interno la Pollini ma è difficile passare da lì. Vince la ragazza di casa! È stata ricevuta in comune dagli assessori Brunori e Cuccherini, la mezzofondista fanese Virginia Bancolini della Steph Stamura che due settimane fa ha festeggiato il tricolore. La sedicenne ha conquistato la medaglia d'oro al Palindor di Ancona dove ha trionfato negli 800 metri under 18. Con un tempo di 2 minuti 13 secondi e 73 centesimi, Virginia ha firmato anche il record personale al coperto, regalando così una doppia vittoria e tanta soddisfazione al suo coach Fabrizio Dubini. Lo scorso 23 gennaio la giovane si era già distinta con il suo record regionale under 20 nei 1500 metri. Traguardi importanti, frutto di un duro lavoro ma anche di tanta passione per l'atletica leggera. Assessore, un orgoglio per la città di Fano? Assolutamente sì, anche perché Virginia è un nuovo tricolore, campionessa italiana negli 800 metri. Questo sicuramente porta il nome della città lontano e anche in una forma, voglio dire, di professionismo perché naturalmente Virginia è una ragazza molto determinata, capace e che dimostra proprio con i risultati che lo spirito di sacrificio e comunque la grande passione per lo sport porta pure in giovane età a livelli molto ampi. Ecco, questo mi fa molto piacere perché è Virginia di Fano, perché è una ragazza che ha iniziato proprio ad allenarsi su questi impianti e poi naturalmente si è trasferita ma porta comunque il nome della nostra città e quindi siamo contenti. Virginia, che cosa hai provato quando hai tagliato il traguardo? Emozione unica, inizialmente non ci credevo, era qualcosa che sognavo da tanto, fin da quando ero piccola adesso il sogno si è avverato e il prossimo saranno gli europei, quindi portare la maglia della nazionale. Speriamo bene, comunque intanto un sogno si è avverato. Ma quando è iniziata questa passione? È iniziata sei anni fa, quando ero in quinta elementare, quindi quando avevo dieci anni, grazie alla mia famiglia che anche loro da sempre hanno corso, facevano atletica, quindi mi hanno passato questa passione, questo sport e adesso sono quella che lo sta un po' portando più avanti. Ma ora in vista di questi importanti obiettivi ti aspetta un duro allenamento? Sì, non mi sono mai fermata, neanche dopo gli italiani della scorsa settimana, adesso infatti anche ho tutt'oggi allenamento e si continua con i lavori duri in vista delle prossime gare. Adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri ad Aldo Arceci di 90 anni e Albina guidi di 83 che oggi festeggiano 65 anni di matrimonio, nozze di pietra per questa coppia residenti a Fano. Auguri dai figli, dai nipoti, i pronipoti e da tutto lo staff di Fano TV. Vi annuncio che lunedì sera, primo cittadino, ci sarà il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, quindi una puntata dedicata alla città Ducali, invece subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi un approfondimento dedicato al Museo del Design, ideato dall'imprenditore Vittorio Livi e realizzato all'interno della splendida cornice di Villa Miralfiore. L'informazione torna domani mattina alle 7 con occhio ai giornali, condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.